Disco rosso per il Baveno che è in casa contro Livrea, perde la terza gara consecutiva e soprattutto viene risucchiata nella lotta playoff. E' un Baveno che parte bene, dopo due minuti Marelli mette in mezzo un pallone dalla sinistra, Ado arriva con un attimo di ritardo. Al nono minuto azione personale di Ado, conclusa però con un rasoterra che si perde sul fondo. All'undicesimo Motetta trova il varco giusto, si presenta al limite dell'area, viene messo giù, l'arbitro lascia proseguire scatenando le proteste dei giocatori e dei tifosi di casa. Sul ribaltamento di fronte, due minuti dopo, il gol dell'Ivrea, Graziolo mette in mezzo un pallone dal fondo e trova Piero Bon pronto all'appuntamento. Baveno 0, Ivrea 1. Il vantaggio dell'Ivrea dura fino al 27esimo, quando Ado riequilibra le sorti dell'incontro. Calcio d'angolo, doppio tentativo del bomber del Baveno, la prima occasione viene respinta sulla linea, riprende Ado e stavolta è 1 a 1. Al 29esimo Chiaverini, che l'anno scorso vestiva la maglia dell'Ivrea, neutralizza una conclusione ravvicinata di Chiappero. Anche nella ripresa parte bene il Baveno e al terzo minuto, palla messa in mezzo dalla destra, Ado gira a lato. L'azione si ripete quasi in fotocoppia, due minuti dopo, Quadio mette in mezzo, Ado stavolta spedisce alle stelle. Al nono minuto rigore per l'Ivrea, Chiaverini aggancia Soster e per il direttore di gara è penalty. Sugli 11 metri si presenta Piero Bon, Chiaverini neutralizza la battuta. Al ventesimo, leggerezza di Ramano, Pallante si trova tu per tu con il portiere del Baveno, che ancora una volta si supera e dice no alla conclusione ravvicinata della punta eporediense. Al trentatresimo ci prova Kau, ma la sua conclusione termina sul fondo. Al trentasettesimo arriva il gol che decide il match. Leggerezza difensiva del Baveno ne approfitta Plumbai, che con la porta praticamente sguarnita realizza il gol che dà tre punti ai suoi giocatori. Nel finale, nervoso e convulso, espulsi Trentani e Munari per reciproche scorrettezze e al quarantanovesimo, Sciala ha sui piedi il pallone del possibile 2-2, ma conclude Alto.